presto venite si va in onda mi ha detto che c'è stato 18 anni 18 anni, 6 mesi e un giorno e com'era la vita là? com'era? oh ma non era male no no c'era tutta brava gente ci davano da mangiare, da pire, da dormire non è così al cibo ci portavano a tagliare a legna nel bosco il professor Peruzzi com'era? com'era il professor Peruzzi? oh il professor Peruzzi è un genio un grande uomo, un uomo con le palle e là era il nostro punto di riferimento anzi potrei mandare un salutino al professor Peruzzi? certo, certo, certo professor Peruzzi illustrissimo professor Peruzzi vecchio porco Don Peruzzi sei una carogna, sei un maiale io ne ho abbastanza via, apri le orecchie per favore, per favore, calmatevi basta per favore, si metta seduto anche oggi, siamo in diretta, per favore viva i massi ci scusiamo con i telespettatori e ora mandiamo in onda